Musica Ciao ragazzi qui Wolf e Jacopo Mi siamo tornati con la seconda puntata dovevamo dormire e dormiamo adesso con la porta aperta con la porta aperta mi raccomando come mio zio c'è uno scheletro armati 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 non capisco dov'è ma è sopra aspetta fai ci metto a controllare visto avevo ragione come abbiamo fatto a dormire se c'erano dei mostri vicinati ah non c'è più hai la mappa ma non c'è più si ma hai la mappa un po' zoom ah si aspetta ecco c'è ce ne ce ne sono un po' di mostri eh vabbè appena passato è tutta sfocata si dovrà caricare comunque adesso dobbiamo continuare e già le due retorce ne mettiamo una ogni tre si vabbè si vabbè le mettiamo a cazzo poi dopo le corrigiamo ma è tanto aspetta aspetta questo coso qua aspetta troviamo questi due questi tre qua che non ci saranno da me è soltanto fastidio ok uno qua qua mettiamone una due per dire che qua abbiamo la no no aspetta no perché poi qua c'era un osso che si un osso è morto uno scheletro che stava cercando di raggiungerci per fortuna che è morto tanto comunque avevamo ammazzato noi si o forse ci aveva ammazzato noi siamo dei professionisti o forse ci aveva ammazzato lui ma va abbiamo delle spade e la madonna ti sei portato dietro la spada di ferro vero? si di ferro anche qua ah si qua è giusto qua in cinque vabbè si qua lo abbassiamo e noi siamo anche dei professionisti a mettere le torce vedo stai facendo un casino che non ci capisce più niente nessuno ma sei te quello che non capisci mai niente? no sei tu che stai combinando un disastro no va bene così vabbè si adesso no perché adesso poi faremo anche delle colonne che noi diamo perché se no al centro non c'è niente io veramente mettevo delle torce sul soffitto facevo ah si il shift mettevo in aria no non si può mettevo in aria dei dei cosi di vetro delle piattaforme di vetro e sopra ci mettevo le torce così era tutto illuminato anche il soffitto e inoltre teneva lontani mostri anche da sopra se adesso qua con l'acqua in mezzo è sempre un disastro quindi adesso poi qua finiamo di ricoprire mettiamo le porte e siamo a posto io avrei messo le torce lungo tutto il perimetro illuminavano di più facciamo crescere più velocemente le piante che è la cosa più importante nel farlo fa un po' finiamo la terra in quel caso andrò a prenderne un po' andrà io a prenderne un po' non c'è bisogno di andare in miniera per prendere da terra sicuro e poi qua dovremmo togliere qualche torce perchè è super illuminata beh la porta per indicar dov'è magari metti che ti perdi no sto coso hai proprio non sai proprio per questo mi hai chiesto di metterti la mod della minimappa scusa si va scusa a proposito salvati il waypoint scusa c no si casa con il puntino rosso scusa scusa vedi eh eh abbiamo un puntino rosso identificato sempre a me l'avevo anche il perno identificato questa era bella però il puntino chi se lo aspettava che comparisse sto coso qua in ordine almeno adesso non vi perdono ah ma ti dice anche la distanza dal punto ecco perchè è enorme in metri attenzione non in miglia non in cubetti eh 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 siamo aspettati a 62 cubetti da cosa? da Roma? ricordatevi ragazzi tutte le strade portano a Roma anche quelle in America anche quelle in manicroft eh 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 Secondo me c'è Roma in manca Certo, l'ho fatta lui Ma tu sei deficiente? No, non fa lui! Nooo, con me non l'ha mai fatto Vuol dire che oltre a scassare la tastiera Riesci a scassare pure le mani Scasso tutto E' un po' troppo sensibile sto qua C'è tu che sei sensibile Agli insulti di Akron Che cosa ci penso? Non ho salvato, non ho attivato il timer Eh, forse Vediamo Non l'ho attivato Vabbè, andiamo a Naso Povero Medinaio Vediamo quando fa notte E chiudiamo Gulp! Eh? Gulp! Che scelta? Niente Era una frase a effetto delle mie Io faccio sempre Che non capisci mai Perché loro No, 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 fanno più alto Oh, bene, così No, 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 fanno altro No, che schifo E' simmetrico Fa schifo Allora, facciamo una cosa No, che schifo Ecco, abbassa tutto semmai Anche se io non avrei fatto più alto tutto E già che ci sei Inventiamo le torce Ma se dovevi abbassare tutto Questa cosa è troppo Allora, no, aspetta Le torce vanno messe giù Eh no, è giusto così No, allora, guarda Allora Chiudi Cancella questa Questa qua Botta giù questa qua E fa il soffitto alto Uguale per tutti Ecco E' molto molto facile Wolf Facciamo, facciamo così Oh Qua Il scritto Vediamo anche quel buco di soffitto Che è sta roba? No, aspetta, no, aspetta Allora Allora, facciamo Qua lo lasciamo uguale E facciamo un buco qua Ok E qua ci mettiamo la La porta Sì 43 La ghiaia non è consigliabile metterla Beh, sul soffitto Allora, no, aspetta Se no, poi mettiamo il pietriso Allora, aspetta Iniziamo a costruire qualche porta Io lo odio quando fa così Ma sai tu che sai sbagli tutto C'è ancora una che ci servirà Che non ci serve Sì Allora Tu Questo non ci serve aiuto Poi cos'altro ci serve Con l'osso ci mangi, lo sai Ah no, con l'osso Lo sai cosa che ci fai? Fai la... Polvere d'osso Polvere Che poi la cospargi sulla piantagione E le piante crescono subito Lo sapevi, no? Adesso poi ci facciamo la polvere d'osso Lo sapevi giusto Che poi crescono più velocemente E non l'ho mai fatto da farlo Madonna Chiuderà Allora rimane un buco da chiudere il soffitto qua Due, tre, quattro, cinque Sono un genio, cinque C'è un buco Allora no Perché aspetta E su qua Se vuoi mettere la porta Eh sì Così Chiudiamo qua Fa schifo Io non l'avrei fatto così Sì 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 Va bene così No, a posto Fa schifo Perché non l'hai fatto da un cubetto qui in là? Fa schifo E perché lì c'era la scala Beh Dove fosse stata tutta la scala No Allora Allora Facciamoli tagliare 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 Fa schifo Allora Dove è Dove è Il buco da chiudere E abbiamo anche usato meno cubetti L'odio quanto fa così Sei tu che sei sbarranato No, ma che cade Sei tu che cade E' sempre colpa mia, va bene Giovanni Adesso lo rompiamo un po' di te Lo rompiamo un po' di te Mie In confini Vabbè Velocizziamo Velocizziamo tutto Anche i nasi che ballano Oh c'è una piccola Non serve niente Ti fa soltanto il letto 42 metri 42 metri Lo vedi dappertutto 71 Eh attenzione 32 Cambio Oh sta diventando ancora Pazienza tanto fino a quando Sulla minimappa ci sono Spine luminose Ok così vediamo subito Se c'è qualcuno Sperando che il sistema Dispondo l'abbiamo fatto Quello che ha fatto Sperando che la minimappa L'abbia fatto uno Che di Call of Duty Sperando che la minimappa Sulla minimappa Lo vedi mai Vedi soltanto quando Spano senza silenziatore Con guarda Appunto E qua non ci sono le serie di decisione Ma comunque Non si sa mai Prima che il click Uno il silenziatore Ma quando salti in line Non esiste un silenziatore Allora iscrivi L'arco col silenziatore Non serve niente Così sei sempre Dov'è casa tua Anche senza il waypoint Cioè Non vedere il puntino È impossibile Ok adesso Cazzo Non è bello Cazzo Cazzo Ti stanno inseguendo Sai Torna a casa Subito 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 Ce n'è un altro Ce ne sono altri Come facciamo Ecco Bravo 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 Viva la minimappa Ho corsa Per la vita Proprio Sai che credo Che ce ne siano Anche qua Sì ecco Creeper Cazzo Basta Dormi Dormi No No Ce n'è un altro Chi è che c'è Zombie Zombie Ti ha No Ti ha rotto le piante Ha fatto un buco Cazzo Ha fatto un disastro Disastro della piantagione Ma l'hai chiuso le porte No ecco Ah ti ha distrutto anche la scala No la scala no Cioè ha fatto danno qua Come cazzo Ha tolto pure le torce Sì Poi va che abbiamo un Un Cioè non sono davanti Poi ci penso io che io sono un esperto Ah metti qualche torcia perché l'ha tolto Ah non si è esperto C'è una cosa Ecco Cerchiamo di Cazzo Un altro No Aia Aia Sott'acqua poi No 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 La spada 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 Non ti preoccupare delle piante Anche se le tagli non è un problema Ma poi sui semi Eh sì che ha preso i semi Non lo sapevi che rubano i semi Che sono messo peggio di politici italiani Ok Cazzo Chiudi anche il buco sotto Ma l'importante è evitare che ci mette qualcuno in carri No Credo che ce ne siano altri Sì Dormi? No Perfetto Così se ne vanno tutti C'è soltanto uno Ma Per sfideremo più da dentro Ok Ok Attento alla scala là Che c'è un buco C'è un buco Guardala Ecco Vedi il buco Sì Chiudilo che se no sta male E riempi questi buchi qua che ci sono sotto? Eh aspetta Io odi Criter I odi Allora Ma porca vacca Tranquillo Non so cosa devo fare No Allora No No E perché sto qua ci ha fatto tutta la posente Quindi Quindi Cerca solo di salire sopra una Ecco Sali Bravo Adesso la riempi di tutto E l'acqua torna infinita Magicamente Ok Ok adesso sistemiamo i buchi che ci sono qua sotto Sistema lì Ok Adesso nessuno può più entrare A parte un creeper Che ne avrebbe tutte le capacità Sì Ma sto pensando Esiste qualcosa Che è in grado di aprir la porta No Che è in grado di Non far entrare il creeper Uh 35 semi Eh sì Dopo che il creeper ha fatto la mega esplosione Tutti i semi che c'erano Allora aspetta Facciamo la cosa Metti torce dappertutto Giusto Metti torce lungo tutto il perimetro Ok Buissimo Eh è buio davanti Tanto di torce ce ne abbiamo ovunque Ci facciamo il La carbonella No lì non puoi C'è già una torce Vabbè senti Direi di chiudere qua Poi continuiamo dopo Poi continuiamo dopo Abbiamo scherzo Distrutti creep Quindi Bella a tutti da Wolf Da Jacopo Me Alla prossima puntata Grazie a tutti